Ben trovati a questa edizione speciale del Tg Anmil, il telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Da giovedì inizierà il settimo congresso nazionale dell'Anmil, al quale parteciperanno 430 delegati provenienti da tutte le province italiane per rinnovare la dirigenza e stabilire le linee della futura politica dell'associazione. Il presidente uscente, dopo 15 anni di mandato, è Pietro Mercandelli, che abbiamo intervistato proprio sui lavori del congresso ma anche sul futuro della sicurezza del lavoro nel nostro paese. Sentiamolo. Fra pochi giorni partirà il settimo congresso dell'Anmil, un congresso importante. Cosa appunto prevedono i lavori di questo congresso? È un momento molto importante nella vita democratica dell'associazione perché arriva dopo 5 anni di intenso lavoro attraverso un confronto che si è sviluppato innanzitutto nelle province e il congresso di Cervia vedrà riuniti circa 500 delegati e lì si dibatteranno attualmente i problemi dell'associazione, si farà un bilancio anche di questi ultimi 5 anni e si getteranno poi le basi per il futuro, quindi un futuro che si preannuncia con molta difficoltà in termini di attenzione ai problemi del lavoro, in termini di collocamento, in termini di tutela dei lavoratori infortunati, delle lavoratrici e dei tecnopatici. Lei è stato 15 anni alla guida dell'Almi, vuole fare un po' un bilancio di questi 15 anni. Cosa è cambiato nel mondo del lavoro? È cambiato molto in termini di attività associativa innanzitutto perché nel 1993, quando ho assunto la presidenza dell'associazione l'Annemil era un'organizzazione che aveva già quasi 60 anni di storia alle spalle, si occupava principalmente di rappresentare e tutelare i mutilati in valle del lavoro. In questi anni si è notevolmente sviluppata l'attività attraverso anche dei servizi molto importanti che abbiamo costituito come l'Agenzia del Lavoro per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori infortunati, disabili e soprattutto anche attività di rieducazione e riqualificazione professionale perché è importante sapere che un lavoratore infortunato se oggi svolge un lavoro, domani in seguito all'infortunio non lo può più fare questo tipo di lavoro, quindi ha bisogno di essere riqualificato professionalmente e questo favorisce il ricollocamento anche se in questo settore si fa molta difficoltà perché ancora i datori di lavoro non gradiscono una persona disabile alle proprie dipendenze, quindi c'è anche qui un'attività che va fatta per cercare di rimuovere anche questo gap culturale che ancora non riusciamo a risolvere del tutto. Recentemente avete diffuso dei dati abbastanza allarmanti sugli incidenti sul lavoro, si parla dei tre morti di media al giorno. Cosa si può fare di più per cercare di diminuire questi dati? Bisogna creare innanzitutto delle condizioni di lavoro più dignitoso attraverso magari una riorganizzazione dei turni, evitare gli stress e cercare di azionare una forte attività di contrasto per applicare leggi che ci sono e cercare appunto di innalzare anche quel livello culturale in termini di attenzione ai problemi del lavoro, in termini di attenzione al lavoratore che deve essere continuamente preservato da pericoli e cercare di far applicare leggi. Quindi anche da parte dei datori di lavoro ci deve essere una coscienza e una responsabilità maggiore a non considerare costi aggiuntivi di tutto quello che riguarda misure di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda le aziende. Infine cosa si augura per il futuro del lavoro in Italia? Cosa si augura per i prossimi anni? Innanzitutto che ci sia sicuramente più attenzione proprio all'ambiente lavorativo, quindi preservare la salute e l'integrità dei lavoratori, cercare appunto di innalzare questa attenzione e anche ci sia più responsabilità intorno ai problemi del lavoro, ridurre e cercare di ridurre il numero degli infortuni che oggi nel nostro Paese sono ancora troppi, più di un milione di infortuni l'anno e 30.000 lavoratori che riportano ogni anno in verità permanenti. Quindi questa è una situazione che non possiamo assolutamente sottovalutare, ci vuole molta attenzione ma ci vuole anche un senso di responsabilità maggiore da parte dei datori di lavoro innanzitutto e anche una coscienza culturale che cerchiamo di, anche qui, di procurare anche ai lavoratori, che ci sia naturalmente anche attenzione da parte dei lavoratori ad applicare le conoscenze, le leggi e naturalmente poi promuovere anche una conoscenza dei rischi del lavoro. Ebbene queste erano le parole di Pietro Mercandelli, presidente uscente dell'ANMI. Io vi ringrazio per essere stati con noi. È tutto per il telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Arrivederci.